Mr. Centurioni si riparte, si è radunata la primavera biancoscudata, già questa è una notizia perché dopo 4 anni a Padova torna il campionato più prestigioso a livello giovanile la primavera. Ha confermato Mr. Centurioni che l'anno scorso ha fatto molto bene con la Berretti, quanta curiosità e entusiasmo c'è nell'affrontare questo nuovo campionato? Abbastanza, sappiamo che il livello sarà alto, fisico, atletico, anche tecnico e quindi sappiamo già che fin da subito dobbiamo prepararci tantissimo sotto tutti i punti di vista ma la voglia c'è, insomma c'è grande voglia di mettersi a confronto con queste squadre, vediamo un po' cosa succede. Il gruppo è numeroso, è stato confermato in buona parte il blocco dei 2000 dell'anno scorso ma sono arrivati tanti i 2001 e anche diversi rinforzi da fuori, soddisfatto dell'organico che finora c'è anche se non è ancora completo? Sì sì sono soddisfatto, forse manca ancora qualcosina anche se siamo in tanti ma in realtà c'è qualche posizione ancora da valutare, però insomma già adesso così penso che possiamo essere competitivi, ovviamente tanti ragazzi nuovi non li conosco quindi mi riservo i primi allenamenti per farmi un'idea di loro, per ampliare le conoscenze, comunque penso che ci sia il materiale per lavorare bene, non ci manca niente, insomma Padova è una piazza importante quindi anche noi vogliamo essere all'altezza della situazione. I primi allenamenti saranno il ritiro sull'altopiano di Asiago, poi il programma cosa prevede fino all'inizio della stagione? Poi torniamo in città, ci alleniamo qui al Geremia tutti i giorni, anche se farà caldo insomma stringiamo i denti e cerchiamo di prepararci al meglio, tanto insomma prima o poi il caldo finirà quindi saremo pronti per la stagione sicuramente che inizierà il campionato il 15 settembre e la Coppa Italia dovrebbe essere l'8 settembre la settimana precedente. Anche il campionato dall'anno scorso ha una formula diversa, la primavera 2, quindi con promozioni e playoff, anche questo magari è uno stimolo in più anche per tutte le squadre per cercare di raggiungere la medio alta classifica? Sì ovviamente noi siamo gli ultimi arrivati quindi al momento non vogliamo fare questi voli pindarici, sappiamo che dovremmo sudarci ogni partita per portare a casa il risultato che quest'anno conta ancora di più dell'anno scorso e quindi vogliamo fare bene e ricavare il massimo da ogni partita, poi vediamo cosa riusciamo a fare. Grazie a tutti!